Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, l'assessore al territorio ed ambiente con delegale bonifiche, Simone Siciliano, fissano i paletti e lo fanno al Ministero dell'Ambiente a Roma, iniziando proprio dall'ampliamento delle aree del sito di interesse nazionale, includendo gli 80 pozzi e i 60 chilometri di oleodotti presenti sulla piana di Gela. L'allargamento, ha detto il primo cittadino, non deve servire come ulteriore gagliardetto da appendere nelle pareti di una città in cui il SIN è sinonimo di morti premature e malformazioni neonatali. L'amministrazione comunale Gela si ha consegnato ai faldoni con relazioni e dati che interessano l'impatto sulla salute dei cittadini derivanti dalla presenza del polo industriale, con l'indirizzo di recepire ed agire rivolto ai referenti dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero. Al di Castello dell'Ambiente è stato chiesto di rimuovere i resti della motonave New Rose, con il suo carico inquinante definita dagli amministratori gelesi una bomba ecologica. Il tavolo tecnico di ieri ha finalmente dato inizio al processo per chiudere i procedimenti di bonifica aperti da troppo tempo in un processo sinergico tra istituzioni che faranno fronte comune nelle conferenze di servizio che da oggi si riuniranno periodicamente, lo ha detto l'assessore siciliano. D'ora in poi non sarà più ammessa l'assenza della regione siciliana, che dovrà invece essere presente con tutti i suoi funzionari esecutivi per non avere più ulteriori rinvii su un tema su cui l'amministrazione comunale si batterà instancabilmente. Al vertice romano, infatti, la regione ha inviato soltanto un delegato e un subdelegato dell'assessorato alla salute, nonostante in tema di bonifiche si è coinvolto anche il Dipartimento Acque e Rifiuti dell'assessorato all'Energia.